Oggi è una giornata particolare, sicuramente un solo particolare, ma anche bella, perché oggi si firma, si va a stipulare una convenzione tra questo comitato che già sta operando nel comune di Scalero di diverso tempo, con risultati eccellenti, veramente così come eccellenti sono i risultati dell'ARPACAL del nostro mare, quindi è testimoniato e certificato anche dall'ARPACAL che il lavoro che è stato fatto in sinergia tra il comitato e il comune ha dato dei risultati veramente eccezionali e io di questo ne sono veramente felice. Ciò va anche a ricordare subito però che questi meriti non vanno soltanto alla comune come principalmente e al comitato come promotore di questa iniziativa, ma va dato anche alle persone, io quindi ecco perché ringrazio il Giorgio, ringrazio Bruno Sassone, però perché ho citato questo? Per ricordare anche l'impegno che c'è stato da parte del nostro consigliere comunale Francesco Di Lorenzo, il quale veramente ha dato tantissimo su queste iniziative, ma in generale per quanto riguarda tutto l'aspetto ambientale, io alcune volte sono stato sollecitato da lui anche nelle ore notturne, quindi non c'è orario e io quindi ritengo doveroso dare dare questo riconoscimento a questo condividiere comunale che veramente ha voluto collaborare e dare tantissimo odore alla città di Scalea, quindi grazie Francesco, Francesco in questi momenti è impegnato perché ha motivi particolari che non sto qui a discutere, però mi auguro che ritorni presto perché noi abbiamo bisogno di lui, come è stato ricordato in anteprima del ragionamento. Detto questo, oggi perché è importante? È importante perché si stabilisce un contratto, si stabilisce un impatto tra il Comune e questo Comitato, che è poi saggito in quello che è, voglio dire, la descrizione della Convenzione stessa, che stabilisce delle regole, io ne leggo qualcuno in particolare, per quanto riguarda ad esempio i destinatari che sono i programmi, le iniziative previste dall'articolo 4, il benessere del mare, alla salvaguardia delle spiagge, delle coste marine e del mare, non chiederle in protetta cittadina, i sopralluoghi devono essere svolti conjuntamente tra le parti, voglio dire c'è tutta una serie di cose che si stabiliscono con questa Convenzione. Tra l'altro si dà anche in questa Convenzione si dà anche mandato al Comitato di poter agire, di poter agire e in effetti qui quando noi parliamo in questa Convenzione che il Comitato potrà esercitare il proprio ruolo di vigilanza e di osservazione, in collaborazione anche con altre associazioni presenti sul territorio che anche se in modo gratuito e volontario potranno rendersi utili, dice, nell'individuare e riferire criticità ed abusi che costituiscono oggetto nel presente protocollo di intesa. Il trattamento dei dati personali, le modalità di attuazione, la riservatezza, cioè tutta la documentazione, dice l'articolo 6, in effetti l'informazione fornita da parte dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale, esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi anche nel rispetto della normativa vigente. Cioè che cosa voglio dire? Che noi con questa Convenzione andiamo a disciplinare bene questo rapporto, questo rapporto che alcune volte voglio dire viene anche sottovalutato, sopravvalutato per certi aspetti ma sottovalutato per altro. Che cosa accade? Che tanti risultati si possono ottenere se non si grida al lupo al lupo, prima di vedere il lupo, questo è che voglio dire. Invece è importante che il Comitato agisca nella misura che deve ottenere poi un risultato, che il risultato non deve essere quello della visibilità del Comitato, ma deve essere quello dell'interesse della comunità in cui il Comitato agisce. E quindi la cosa che è importante oggi è che il protocollo che viene firmato sia stabilire un patto, un patto d'onore tra le persone. Noi abbiamo la necessità di avere le associazioni che io ringrazio, tutte le associazioni che io ringrazio. Abbiamo associazioni come Farambiente, come l'associazione di altre associazioni, abbiamo avuto di recente anche quello che è stato il risultato anche dell'associazione Caravecchia Scalea, ad esempio, mi viene in mente, no? Per l'impegno profuso anche per la venuta da Salis Puccio. Quindi voglio dire c'è ogni associazione, abbiamo i carabinieri, i carabinieri che oggi si stanno tanto prodigando pure, ma tantissime altre associazioni che forse ne dimenticherò qualcuno, ma partiamo anche dall'associazione Caravecchia, che promuove manifestazioni, che provoca c'è, voglio dire, Scalea sta crescendo e grazie a una partecipazione popolare, da una della cosa più importante. Al di là voglio dire poi di mettersi il cappello, di chiamarsi associazione Amici del mare o non Amici del mare, perché tra l'altro se noi andiamo a parlare di questo aspetto sarebbe molto reduttivo, perché Amici del mare lo sono anche coloro uguale, non fanno parte dell'associazione. Però è importante che questa associazione abbia racchiuso nei propri, diciamo, nel proprio elenco di nominativi, anche, voglio dire, gli operatori del demanio, che sono l'anima pulsante poi di una città a vocazione turistica, perché noi sappiamo benissimo che se abbiamo un paese, abbiamo una città che tiene al decoro urbano, che tiene al decoro stesso della città per quanto riguarda anche le infrastrutture, la pulizia, la pulizia delle strade, l'acqua nei rubinetti, la pulizia delle spiagge, ecco un dato, significa, voglio dire, che noi abbiamo raggiunto veramente un grande risultato. Io intanto, intanto, se abbiamo, dal pregio di presentare, penso di tutto, va bene? Prego, prego. Facciamo firmare il nostro responsabile del settore. Sì, del settore. Ecco lì, a presto dell'associazione. Ecco lì, a presto.